benvenuti alla finale del main event road to lucca di genova abbiamo alla vostra sinistra massimo lizzori con un mazzo stark seas of winterfell e abbiamo invece la vostra destra valerio barbero 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 o barbero con un mazzo lannister barberai no agenda torneo da 26 persone 24 27 persone aumentano ogni 20 persone l'incannano migliore potete fare site io tengo ma che silenzio non 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 Grazie. 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 Cos'è questo? È un aftermath. Ah, ok. Doveniamo contrarre a fine della... Andata. Possono essere salvati o no? No. All'inizio di cosa? Alla fine della maschera. Alla fine della maschera. Alla fine della maschera. Rischiamo? Non l'ho giocato, stai scappato. Ah, devo farti... Adesso dai stop perché... Smazza pure. Va bene così. Vai, vai. Te ne prego dieci. Prego dieci. Quando hai che saluppei? La tre. Torna a lui che è stato scantato. E allora? Oh... Come una carta? No. No, no. Quante ne vuoi? Sì, 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 sì. Il piso è bianco. 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 è bianco. ha vinto. è bianco. con l'olio d'olio d'oliva. vai. il piso è bianco. forse è bianco. il piso è bianco. il piso è bianco. il piso è bianco. il piso è bianco. è bianco. il piso è bianco. è bianco. è bianco. il piso è bianco. questo piso è bianco. la carta 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 è bianco. Grazie. Grazie. Grazie.